Qui Sergio Giannulo, direttore Lega del Filodoro di Molfetta. Buongiorno Sergio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito. Allora, parte dal 2 febbraio a Molfetta riparte il corso base di formazione per nuovi volontari che poi appunto andranno ad arricchire la squadra dei volontari della Lega del Filodoro. Che cos'è un corso base di formazione per i volontari della vostra associazione? È un'occasione intanto per conoscersi e per presentare le attività della Lega del Filodoro a persone che in qualche modo si dichiarano interessate a condividere anche solo potenzialmente il loro tempo, la loro disponibilità, il loro cuore a favore delle attività che la Lega del Filodoro porta avanti nelle proprie sedi. In concreto, annualmente e per fortuna dopo gli anni tremendi della pandemia riprendiamo in presenza almeno parziale, dicevo, annualmente in tutte le sedi della Lega del Filodoro si organizzano momenti di formazione per persone che al termine di questo breve percorso di conoscenza possono avviare un percorso di volontariato attivo a sostegno delle nostre attività. Ecco, un volontariato attivo a sostegno dell'attività della Lega del Filodoro c'è tempo fino al 30 gennaio per iscriversi poi Sergio daremo le indicazioni tecniche su come fare e come si svolge un corso base di formazione? Qual è l'impegno che il futuro volontario vi deve assicurare? Si svolgerà in presenza, si svolgerà in video lezioni? Dacci qualche dettaglio in più. Entrambe le modalità, nel senso che quest'anno proprio come segno di graduale ritorno alla normalità le attività di formazione vengono svolte non tutte in presenza come normalmente avveniva ma quattro incontri con modalità remoto e due incontri in presenza presso il nostro centro di Molfetta quindi diciamo che per quattro volte la community degli aspiranti volontari di tutte le sedi della Lega del Filodoro sarà unita in questi incontri di presentazione delle nostre attività e di conoscenza di quelle informazioni necessarie per un approccio alle persone sordoceche e pluriminorate che noi giornalmente incontriamo sul nostro percorso quindi quattro incontri in remoto e due incontri invece in presenza nei quali diciamo che sicuramente si entra un po' di più nel merito delle attività del singolo centro quindi in questo caso del centro di Molfetta sono momenti utili noi crediamo a conoscere la realtà della Lega del Filodoro ma a permettere anche all'aspirante volontario di farsi un'idea e quindi poi effettuare una scelta più consapevole rispetto alla propria intenzione di avviare un percorso di volontariato attivo quindi in questi incontri si presentano le attività si presentano le persone sordoceche che eventualmente poi si andranno ad incontrare fornendo agli aspiranti volontari quelle conoscenze soprattutto in tema di sistemi di comunicazione con le persone sordoceche di modalità di supporto nell'orientamento e nella mobilità alle stesse persone e in generale presentando quello che è il ruolo del volontario in un servizio della Lega del Filodoro che è un ruolo che storicamente è considerato centrale in quanto i volontari rappresentano un pilastro fondamentale della nostra casa Lega del Filodoro in quanto permettono non solo e forse direi non tanto di fare qualcosa in più, di svolgere delle attività certo anche questo, ma forse soprattutto di fare meglio le attività che quotidianamente facciamo perché quel tocco di generosità, di gratuità e di cuore che il volontario sa portare, nessuno dei noi professionisti potrebbe portarlo allo stesso modo il volontario per la persona sordoceca che noi incontriamo sul nostro percorso è quella figura che è in grado di intessere delle relazioni diciamo pure di fare amicizia con i nostri, come li chiamiamo noi, ragazzi al punto che si creano poi delle relazioni che vanno avanti negli anni con quel filodoro che soltanto un volontario è in grado di intessere in maniera così preziosa per i nostri ospiti Grazie Sergio per aver sottolineato l'importanza dei volontari in questo caso appunto parliamo della Lega del Filodoro ma i volontari coloro i quali impiegano investono il loro tempo al servizio degli altri possiamo parlare di un volontariato diretto e anche di un volontariato indiretto magari persone che non se la sentono, che non hanno tanto tempo necessario a disposizione come possono comunque aiutarvi, sostenervi nel vostro cammino? Certo, sicuramente la disponibilità è una disponibilità che noi chiediamo ovviamente in maniera proporzionale al tempo a disposizione ma chiediamo per una questione di opportuna programmazione ma anche di giusta continuità sull'intervento del volontario dicevo chiediamo una presenza con una cadenza settimanale, quindicinale nell'ambito di un'attività programmata quindi non c'è il volontario che, faccio l'esempio arriva nel nostro centro di Molfetta e fa quello che c'è da fare no, non funziona così c'è un'attività già organizzata rispetto alla quale il volontario si è dichiarato pronto e quindi quando dedica un'ora o due ore del proprio tempo sa perfettamente quello che deve fare o come diceva bene lei in modalità come la chiamiamo noi diretta cioè a diretto contatto con i nostri ospiti quindi per attività in genere di sostegno, di supporto, di carattere ludico, ricreativo legato ad una uscita o a una passeggiata o qualsiasi attività possa essere di beneficio alla serenità dei nostri ospiti o nell'ambito di attività un po' più virate quali possono essere dei laboratori manipolativi dei laboratori di teatro, dei laboratori di cucina ovviamente per i ragazzi le cui caratteristiche sono compatibili con quel tipo di attività per chi invece volesse fornire un prezioso supporto all'attività della nostra fondazione non prevedendo un contatto diretto con i nostri ospiti può attivare insieme ai nostri referenti per i volontari quelli che noi chiamiamo progetti di volontariato in diretto cioè a supporto delle nostre attività e se vogliamo fare qualche esempio per esempio essere di supporto nella guida di un automezzo essere di supporto in occasione di attività di comunicazione e raccolta fondi che di tanto in tanto anzi spesso si organizzano in posti pubblici o nei nostri centri essere di supporto in generale per incombenze legate all'attività quotidiana e ordinaria cioè diciamo pure che se ho la voglia e la disponibilità c'è tanto da fare anche alla lega di un automezzo le attività sono tante, numerose e allora tornando a parlare del corso base di formazione per i volontari che partirà il 2 febbraio a Molfetta ricordiamo che le iscrizioni sono aperte fino al 30 gennaio e ricordiamo come fare per iscriversi magari Sergio non diamo troppi numeri di telefono lasciamo solo il sito internet che immagino sia il modo più veloce e immediato per ricevere informazioni e trovare naturalmente tutti i vostri contatti certo, cercando sul sito lega del filodoro.it per fare tutte le informazioni è più semplice andare a recuperare i contatti mandare un'email o chiamare telefonicamente il referente dei volontari è a disposizione per accogliere una iscrizione per fornire tutte le informazioni finalizzate all'avvio del primo appuntamento che si tiene giovedì 2 febbraio in modalità online e poi fornire il calendario dettagliato che si conclude con un ultimo incontro sabato 25 febbraio quindi diciamo che nel corso del mese di febbraio abbiamo concentrato tutte le attività in modo tale da partire per chi ne avesse piacere nel mese di marzo con quella fase che noi chiamiamo la fase degli affiancamenti cioè pian pianino il volontario si affianca ai nostri per fornire il proprio contributo e confermare la propria scelta di avviare un percorso di volontariato benissimo allora lega del filodoro.it grazie a Sergio Giannullo direttore lega del filodoro di Molfetta per essere stato con noi rimaniamo a disposizione come dire con i microfoni aperti le telecamere accese qualora ci siano altre novità iniziative degli amici della lega del filodoro grazie ancora buon lavoro grazie tante a tutti quanti voi